Bentornati ragazzi, io sono WazeFlash e questo è un nuovo episodio di Monster Hunter Freedom Unite e non so perché mi sta laggando. Ora vediamo come risolverlo. Ok ragazzi, non so perché ma oggi l'audio mi lagga un pochino e comunque va bene mi abbasso l'audio di gioco poi magari metto qualcos'altro in sottofondo perché mi rendo conto che è molto fastidioso che perché guardate un po scattoso però purtroppo con gli emulatori è così maledizione e sì non capisco prove non capisco e forse sarà questo livello che viene emulato così male non lo so o forse quest'area proviamo ad andare nell'area successiva comunque oggi si caccia il velocidrome che è un mostro facilissimo quindi questo sarà un video molto molto lento allora proviamo a cambiare area e si era il problema era più che altro con l'area iniziale mi sa allora iniziamo a baffarci ok ok ah quello è recupera salute mamma mia che brutta sensazione a vabbè allora questo corno più che altro ci cura ma l'importante è avere la il recupero di movimento allora sono passato così tanto tempo a a cercare di aggiustare praticamente la risoluzione che praticamente ho perso un po di stamina per fortuna non la risoluzione la registrazione più che altro magari la prossima volta andrà meglio non lo so non capisco allora quindi dobbiamo cercare questo boss che il velocidrome e dovrebbe essere da queste parti se non sbaglio allora quando lo trovo faccio partire di nuovo la registrazione ok eccolo qua l'abbiamo trovato e questo morirà non riusciamo a catturarlo mai nella vita questo qua muore in due secondi praticamente di tutti i drone veloci gen prey di tutti quanti del gioco lui è proprio il più pippa proprio muore subito quindi iniziamo stai già scappando ecco mi fai grazie gatto per farmi esplodere però salta sempre c'è da dire questo ma lo fanno anche gli altri allora deve allontanarsi dall'uscita perché sennò rischia che mentre lo attacchiamo passiamo di area mamma mia com'è brutto oggi proprio non si riesce a fare niente l'abbiamo già stonato ok abbiamo vinto abbiamo vinto ragazzi fine della registrazione io chiudo il canale questo martello è troppo forte la lag è troppo alta addio addio proprio ho rotto ho rotto la partita ho rotto il gioco ho rotto tutto quindi mi viene da ridere mi viene da ridere la velocità con cui l'abbiamo ammazzato quindi se questo breve video vi è piaciuto iscrivetevi al canale commentate mettete like al video e soprattutto attivate la campanella delle notifiche noi ci vediamo alla prossima a presto grazie a tutti